Musica Parti? No Parti? No Hai ormai il video in teatro? Eh? Hai potuto tagliare? Ma no Ah si? No, ti prego Va bene Bella raga qui Davide e Torsitita Eh Marco grazie a cazzo Tu vero Ok Si E Marco Eeeh Questa è una partita di nascondito Fa quasi paura E' il joystick Esatto Dammi il joystick Paura Siamo in schermo con il viso a tre Paura E chi cerca? Cerca l'unico che ha la serie girata al contrario Ovvero Marco Dopo viene a giocare a calcio Un messaggio delle tre a un quarto E sono esattamente quattro alle sei Esatto In the pace In the pace Eh No In the pace Se sapete come funziona il nascondino Allora Io e Davide ci nascondiamo Io sono questo qua Eeeh Che gira Io sono la gola del straccio E io con la figa E Marco con il schidio E quello Con l'altra Quella con l'altra Quella con l'altra No Chissà frega Eh Ciccina frega Quindi Fede Quindi Prima mi nascondono io Così guardo nel mio schermo Qua ti nascondi tu Va bene E' già Ho qualcuno Guardate un po' Dalla situazione di adesso E' che voglio che parliamo Fede mi ha chi parlare Parla Ok perfetto Mi nascondo prima io Quindi guardate quello in alto a destra Esatto Che sono già arrivato Comunque sono quello che è rusha intorno a me Oh Guarda che bello Epico Epico Lo sapevi che stavo scu... Tanto Marco ascolta la musica No non lo sapevo Mieh Aspetta Vieni a vedermi Inquadrare In the face No Devo ancora No Scusami Davide dimmi dove Dimmi le coordinate Ovviamente destra Sinistra Giù Oh lo so Oh lo so Quindi se guardate quello in alto a sinistra Ovvero Lui Io Che diciamo Stugio Tutto qua faccio Veramente schifo In sub base In sub base In the face No 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 Dici no Assolutamente Se no Boh Eh Io sono mister Sì 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 Un muscolatino posso andare? No 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 Solo perché All'estero Miettoni Ci mangi un'altra subito Viva la destra Vai Vai Vieni solo lì A destra A destra A destra Dove vai? A destra Quindi a sinistra A sinistra Ok Ok Scegliamo Le informazioni precise Di Dallet Metal No Girati dall'altra parte Oh Gira Dagli il culo Girati gli spazi Ahah Ok 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 Perfetto Fermo così Ok guarda lì Oh Non vediamo A posto Puoi tirare la sedia Sì Quasi E poi come Eh che bello Esatto Yeah Ma in mia vita ho ucciso Perché prima non ero Sì 86 volte Ok più o meno uno o due Cristo sangue Diciamo che lui ha la possibilità di vedere Quello che vediamo Non gli era lo stesso schermo Adesso io parametriamo il schermo Oh Oh No Non puoi pigiare star Hai visto? No Hai visto? Tu sei bastardo Dai ho premistato 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 Dai Il genizzatore è proprio studiato Non lo temo In the face In the face Sì Ecco Mi sa che sto parlando Faremo un'accelerata Di quello incredibile Verrà poi lì Sì esatto Eh Eh Non è che voglio Non è che voglio Non è che voglio Sembra un 360 Sensibilità 10 così Ho 28 No Sono 4 No Mi ha visto Io lì ho visto Io lì dentro Non ci credo neanche morta Appunto Mori Mori Ma come ha fatto Secondo me ha guardato Quello ha riflesso nei quadri Magari Come ha fatto È al migliore Dei posti Anche lì ci vado Da niente Perché sono un camper Eh Perché sono un camper Camper come te Sono tutti i posti Sì intanto tu non sai Un cavolo di niente Eh perché non hai camper Oh Ah ci sei Beh Sono cose da rush Sì Ho detto che tu non sai Che si può saltare Dacqua finestra Che senso Scurami La finestra che più indesura Che brutto Che brutto Stupido Quello Quello Non è vero Metti che c'è sangue freddo Pro Allora c'è mamma No non ce l'ho Scusa Oh No non ce l'ho Ehm Scusa Pisco L'adle L'adle Non si può saltare Non è vero Non è vero Non è vero in the door in the door uniamo ocristo si è venuto o allora ho fatto un bambino la cosa è che questo lo vedranno sono lei anche bella la granada per favore il senso ma io non ho mai avuto no ma no no non è vero un uomo mi ha trovato non se non mi ha trovato il soldo dove sei però io sono poco a mano 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 quindi lo suoi quanti 3 tutte patte se andava sopra la cassa come non fai non sai che non è capace a borgh buongiorno buongiorno un uomo rd e questo è la sessanta la simile io ho la stagione durando da in sei minuti per quanto se abbiamo 10 minuti per cui precisamente tre minuti 25 secondi e 15 secondi in the free basta che lo sto in the face Davide Davide mi aiuto oh ti ho qui cazzo quella pistoletta come il barretta oh questo lo metto in montage non me ne freghi niente ma lo metto in montage non lo sai lo sai che lo metto in vero? è la pure delle pc dove sai? ti ripro che mi hai già visto 4 volte lo stai ascoltando? non sopravvivere vediamo se l'uomo vedi sono un vostro mi sto ascoltando la musica della cuffia di me al massimo mi avete scuso sono rimasto da solo non sei lì eh si in the face the thing dai ti do un aiuto tardi oh davide premi start e togli un pezzo di mappa io? no 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 non voglio aiuti ok allora arrantati sentiti il dovere di arrantarti e da questo momento partirà una super accelerata oh prevedo te nemo ti ammigliamente tu corri un'omagliata yeah te la sussata basta ah ma la sensibilità si vede che basta no scope non riuscito però per l'uomo dai per l'uomo dai per l'uomo dai per l'uomo mi hai visto? ancora mi hai visto? no non mi vedi orbo 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 no ti do una mano adesso vengono mangiati sei fuoco 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 meno fuoco meno fuoco braciere fuoco 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 braciere carbonela carbonela pancetta 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 che bell'indizio wow dai davide rosso mandare catafare acqua 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 oxigenata stigione per bene per ho visto qualche stupido ok davvero acqua 15 c la l'uomo non ok il 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 stess si lo so se lo so non c'è niente da fare il aspettavano fuoco poca acqua poca acqua era brancera qua prima dai non è vero brancera per dire fuoco molto fuoco caldo caldo brucia scotta saltale che brucia occhio occhio su dove vai dai dai ci sei ci sei stai guardando la direzione sbagliata ecco mi stai guardando mi stai più o meno guardando adesso mi piace dove sei? mi hai guardato come faccia guardate ma dai dai e questo è un epic fail ecco ti fai giù ti fai giù no ti sparo addosso no sono morto bene ragazzi il video di oggi assolutamente no sense il video no sense cosa mi ama? questo non c'è capace non c'è capace gmail saluda divardo davide saluto e questo